Il più grande giocatore della Roma di tutti i tempi, uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi, uno dei più grandi calciatori in assoluto di tutti i tempi, ha finito le giornate al calcio, sono le 19.59 del 24 maggio del 2017, dopo 23 anni, 785 vettine di cui 618 il campionato, il più grande artista del nostro calcio, il più grande artista del calcio italiano ha smesso di giocare, ha smesso di giocare Francesco Torti. Purtroppo è arrivato questo momento che speravo che non arrivasse mai, maledetto tempo, è lo stesso tempo che quel 17 giugno del 2001 avremmo voluto passare in frigo. Purtroppo è arrivato! 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 Cospetta laterazzi, Torti si porta quasi insolatino, Torti si è riperato! Pallometto! Francesco! Totti! Un gol pazzesco! Pazzesco per il 2 a 0! Purtroppo è arrivato! 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 riangirà tutto Nascere romani e romanisti è un privilegio Fare il capitano di questa squadra è stato un onore Siete e salite sempre nella mia vita Attenzione, vengono a fare perché la parla è Totti L'uscita è andata Totti, Totti Direte, direte, direte Attenzione, vengono a accettare l'esempio Perché nessuno ha scoperto L'uscita è andata Subito, subito, subito Di Totti Sono pazzesco di Totti Di Totti Ma cosa ha fatto? Totti Che è capitano di questa squadra Ora scendo la squadra Entra uno sfrodoglio che mi ha accolto che ero un bambino e che lascio adesso che sono un uomo Ora è il capitano E con il tipo di oro E con il tipo di... Francesco Totti No! Grazie a tutti